Nello scorso episodio ci siamo lasciati che ero un nabbo, un epic fail E completando una serie di giochi potremo portare questa lancetta da nabbo a pro e elite Quest'oggi ci riusciremo Ho la bellezza di 30 di oro da poter spendere per comprare Non lo so, tipo delle nuove frecce? Direi proprio di sì, ci servono Cos'altro posso comprare? Vediamo Oggetti Posso comprare delle... Melador degli elementi? Non so cosa possa servire Token I token ci servono E vi spiego subito per quale motivo ci servono Con i token possiamo sbloccare tanti nuovi minigiochi Come per esempio il sopravvivi per 30 secondi alla TNT Eccoci qua Ogni volta che completo alcuni di questi minigiochi otterrò dei punti, quindi delle monete d'oro E il mio rank aumenterà da nabbo a pro Ok, devo sopravvivere, non mi devo fare assolutamente colpire dalla TNT, non sarà facile 30 secondi, forza ragazzi, cosa ci vuole? Devo sopravvivere 30 secondi alla TNT Dai Ce l'ho fatta? No, 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 manca ancora un po' Non mi ha colpito neanche una volta Ok, ho parlato troppo presto Oh, porca miseria Mi stava facendo del male No, no, no Oh mio Dio Ne sto spuntando troppa Ce l'ho fatta! Ho completato la sfida e come vedete la lancetta sta salendo Il che significa che se adesso entro nella libreria posso sbloccare degli altri minigiochi Sopravvivi ai maiali per 30 secondi, sembra facilissimo Proviamoci Quest'oggi diventerò un pro Ve lo prometto Ok, devo sopravvivere ai maiali Non farti toccare dei maiali per 30 secondi Ma veramente? Ma che razza di gioco è? Io giro in tondo Se giro in tondo non mi toccano, giusto? Oppure se salgo tipo qua Aia Oh mio Dio No Oh, è più difficile di quel che pensassi Fermi Mi mangio la mela Che cavolo mi ha dato la mela? Niente! No No, stupidi maiali Dai Oh, quando passano 30 secondi? Più veloci? Sì! Ce l'ho fatta Ok Ho altri due token Come vedete la lancetta è passata da epic fail a noob Ora dobbiamo portarla a medio Pro Elite Non sarà difficile Sopravvivi ai creeper per 30 secondi? No, ragazzi Ma se tra un po' non riuscivo a sopravvivere nemmeno ai maiali Ce la posso fare Ok È tutto verde Così si mimetizzeranno No! Ecco Perfetto Bene Uno è esploso Sentite altri creeper? No Oh sì, ce n'è uno Porca miseria Devo fare attenzione Ma li posso uccidere? No Oh no, 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 no Devo sopravvivere, ragazzi Devo solo sopravvivere Non mi importa se loro muoiono Non è questo lo scopo Io devo restare in vita Oh cavolo, sono tantissimi Ok Se si ammazzano tra di loro è ottimo Ce l'ho fatta Dai Aumenta Sì! Bene Mi sta iniziando a piacere Dammi un altro token Adesso cambiamo modalità di gioco Torniamo a fare Le prove a tempo Queste le ho già fatte nel primo video Infatti c'ho rank gold Per il parkour Rank diamante Per il boss Battaglia di farm Boh Non so neanche cosa sia Oh Cavolacci Sono di nuovo all'interno dell'arena Sono Contro dei polli Vabbè ma sarà una passeggiata Scusa Cos'è? Mi attaccano? Aia! Sì mi attaccano! Per fortuna i polli hanno soltanto un cuore di vita Quindi con una spadata li ammazzi Mi spiace bella faccia So che sono tutti i tuoi fratelli Ma non lo faccio apposta Devo sopravvivere Round numero due You've made a pig mistake Ok I maiali Anche i maiali mi attaccano in questa mappa Io non capisco Come ha fatto a trasformare i maiali in armi da guerra Morite Queste già che ci siamo Combiniamole insieme Ok Adesso siamo contro Le mucche Va bene No problem Tanto Ormai ho capito come si fa a finire questi giochi Basta indietreggiare e attaccarle in questo modo C'è un'armatura fin troppo potente Le frecce me le conservo se dovessero spuntare Non lo so Degli scheletri Oh mio dio Ok ok Oh calma 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 Sono troppo veloci queste Ce la faccio ce la faccio Sì Ragazzi dobbiamo utilizzare le frecce adesso Ultimo round Se vinco questo Vinco tutto Ok sono tutti quanti Polli Mucche Maiali Morite Oh mi attaccano a distanza Ma come cavolo fanno Morite 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 Sono troppo culpaggiato per farmi battere da voi Oh chi sono queste Le mini pecore Non le avevo viste Ce l'ho fatta Rank diamante Guardate Diamante Diamante Gold E infatti l'arancetta si è alzata Molto bene Con tutto questo oro Mi compro degli altri token Così sblocco degli altri giochi Così posso continuare a migliorare La caduta degli anvil Ok Ho sbloccato la caduta degli incudini Sarà difficile Dovrò sopravvivere per ben 30 secondi All'interno di una mappa in cui gli incudini cadono dal cielo Questo è complicato Gli incudini fanno male Io quasi quasi Aia Se mi hanno rotto l'elmetto in ferro Ok 30 secondi ragazzi 30 secondi passano velocemente Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Andiamo No 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 Dai Ok Andiamo Ce la faccio Ce la sto facendo Credo stiano per finire i 30 secondi Non ci credo sono un pro Io mi metto qua Non mi muovo Aia Mi è caduta in faccia Ok ce l'ho fatta Stavo per morire ragazzi E l'asticella adesso È arrivata verso Average Sono un giocatore Nella media Posso comprarmi un nuovo elmetto in ferro Mi si è rotto Mannaggia non posso Allora ragazzi Devo togliermi un sassolino dalla scarpa Non mi sta bene Che non sono riuscito a completare questa sfida Nello scorso video Quindi ora la completeremo Tra non molto Nascerà Un esercito di zombie Ma non sarà troppo difficile da battere Allora Purtroppo non ho un'armatura completa Perché Mi si è rotto l'elmetto Ma dovrei comunque riuscire a batterli Ammazziamo i piccoli Sono quelli più fastidiosi Oh Mi ha droppato nel metto Che schifo In maglia Non lo metterò mai Un vero imperatore non metterebbe mai Nel metto in maglia schifoso Molto bene Prossima sfida Ah è vero Quello degli scheletri Cavolo questi sono difficili da battere ragazzi Devo farli attaccare tra di loro Devo riuscire a farli attaccare tra di loro Ecco perché non ero riuscito a completare questa sfida Ora mi ricordo No ragazzi mi devo mettere per forza l'elmetto Scusate Ma se no qua non riesco a vincere Ammazziamo quelli con l'arco potente No ma è impossibile Sono troppi Non rigenero neanche più la vita Ce la faccio? Forse sì Dai Ragazzi Gli ultimi due L'ultimo Sì Ok Bene Se l'ho fatta ma non ho più frecce Nooo Come faccio a ucciderli senza frecce Ok a poco a poco Non ne devo chiamare troppi insieme E non mi devo assolutamente fare colpire Ecco appunto Questo è difficilissimo ragazzi Bene Ancora dai A poco a poco venite Guarda piccolini Stammi alla larga schifoso Stammi alla larga Dai Mi serve del cibo Dannazione Ce la faccio ragazzi State tranquilli Quest'oggi Diventerò Un pro di minecraft Zombie Ma più veloci Eh sì Vabbè che è Ma che cavolo Un po' troppo veloci Un po' troppo veloci Un po' troppo veloci Ce la posso fare comunque Non vi preoccupate Un imperatore non si tira indietro Di fronte a nulla Dai 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 Sì 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 Morite Sì Ultimo round Se riesco a vincere Mi darà il rank gold Mi accontento eh Oh no Ok Il problema sono quelli con le frecce Dai 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 Se si ammazzano tra di loro è perfetto Ammazzatevi tra di voi Bravi Sì 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 Andate Mi devo far fare da barriera Dai 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 Zombie dai Fatemi da barriera Da scudi umani Ce la faccio ragazzi Ce la faccio No 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 Muori Sì Ce l'ho fatta Ma come Mi dà soltanto il rank smeraldo Ok Il rank smeraldo Meglio di niente Evidentemente ci ho messo troppo Però Come potete ben vedere L'asticella si è alzata ancora Io ho bisogno di cibo Mi serve Del cibo Dammi queste Armatura Nuovo elmetto Grazie Provo l'ultimo gioco Qua c'ho il rank Qua c'ho il rank Qua c'ho il rank Qui non ho il rank Battaglia Dei piccoli Vediamo di cosa si tratta Stavolta c'ho le mele E me le mangio Oddio che schifo Pensavo fossero silverfish Oh mio dio Oh mio dio Che ansia Che ansia Che ansia Che fanno venire Che schifo Che schifo Che schifo Morito 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 Aiuto 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 Morito Morito Ecco perché si intitola Battaglia dei piccoli Oh mio dio Le tartarughe Ma fanno malissimo Da quante qua le tartarughe Fanno così tanto male Scusate Non ha senso Dai 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 Siamo ancora Rank diamante I village Oh mio dio I golem Non posso combattere Contro i mini golem Sono troppo potenti loro Raga mi immassacrano Ve lo dico già Se mi faccio colpire Mi immassacrano questi Morite Morite Ho detto Andiamo L'ultimo Sì Bene Mangiamo la mela Così rigenero la fame Round 4 Chi sono questi Le mini pecore Mannaggia Le ho già affrontate prima Sono veramente fastidiose Ce la posso fare Ce la posso fare Mi servirebbe un accendino Adesso È l'ultimo round Le api Va bene Va bene Volano Porca Se No queste sono complicate Devo avere dei riflessi pronti Le ho battute Rank diamante Che significa Mi cari ragazzi Che sto finalmente Diventando Un pro Io spero che questo video Vi sia piaciuto Nel prossimo episodio Cercheremo di diventare Anche dei god Dal vostro Kendall È tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao